Sono molto soddisfatto della prestazione che hanno fatto i ragazzi perché sono stati molto bravi. In tutte le situazioni di gioco siamo riusciti ad andare in vantaggio con una grande giocata di Gelli, poi abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi abbiamo tenuto molto bene anche nel secondo creando anche i presupposti per poi chiudere la gara e non ci siamo riusciti per pochissimo, però la squadra ha combattuto, ha saputo leggere tutti i momenti della partita da un punto di vista tattico, loro hanno iniziato con un sistema diverso rispetto a quello che ci aspettavamo, però ci siamo organizzati subito, poi anche durante la partita quando hanno cambiato abbiamo preso le misure subito, quindi oggi c'era quella giusta attenzione, quella giusta concentrazione, rabbia, agonistica che sono necessarie per fare le partite di un campionato di Serie C in questo momento dell'anno e quindi sono molto soddisfatto perché hanno risposto tutti molto bene, quindi un applauso ai ragazzi e certamente adesso inizia un periodo di grande impegno perché ci sono delle partite ravvicinate e quindi bisogna avere la capacità di recuperare in fretta da un punto di vista sia fisico ma soprattutto nervoso perché per fare risultati in questo periodo dell'anno occorre esserci da un punto di vista proprio delle attenzioni, della concentrazione e quindi è quello l'aspetto da tenere più presente e quindi dobbiamo lavorare in questo senso per arrivare alla partita dei mercoledì più preparati possibile.